Ciao dai goccieri, eccoci da Out of the Box. Oggi vado a parlare di Solani, gioco di Drake Villareal, edito dalla Final Fantasy Games, gioco per 2-4 giocatori dove andremo a ripercorrere la creazione delle stelle secondo i dinè, non che i navaco. Andiamo a vedere come... Per quanto riguarda il setup andremo a mettere il tappetino plancia principale nel mezzo e ogni giocatore prenderà la propria plancia, da assicurarsi che la plancia con il coyote sia sempre inclusa nella partita perché il giocatore alla sinistra del giocatore con il coyote si prenderà il segnalino primo giocatore e di questo andrà... qui c'è il coyote, di qua tocca a lui iniziare. Oggi daremo 4 carte figura astrale a ogni giocatore pescate a caso, mescolate il mazzo, e ne rivedremo 4. Le carte sono rappresentate in questo modo c'è la figura, c'è il criterio di punteggio e poi un bel po' di flavor text, testa di colore sotto, che narra della carta gli diamo 4 a caso e di queste 4, non la metto per bene, il mazzo poi non servirà più, eh e di queste 4 andremo a prendere i rispettivi segnalini e li mettiamo appunto sopra indicato alla stessa carta quindi la pegorella, lo zig zag, questo è il giocatore che è diverso e la lanternina ma facciamo un interesse a questo qui. Dopodiché, agli giocatori verranno dati 4 diramazioni oscure che sono queste qua rosse. Per quale motivo? Andiamo a mescolare questo mazzo una volta mescolato questo mazzo, orientato così a casa come capita prendiamo una di queste e la mettiamo in mezzo al tavolo. Tutti i giocatori dovranno andare a posizionare se questo chi è la situazione, dovranno andare a posizionare le proprie diramazioni oscure in questo modo quindi in questo caso sarà una, due, tre, quattro, così. Ovviamente non deve essere speculare ma deve essere precisamente questa cosa, quindi se questo giocatore fosse rivolto in questo modo metterebbe sempre queste cose così. Quindi se qui il nord, come avete segnalato in ogni tappetino mi andrò a fare uno zoom tattico per farvi vedere come sono una volta questa carta che viene utilizzata, la si scarta e non serve più. Nel tappetino come vediamo il segnalino del personaggio e il nord quindi se questo tappetino fosse così, girato in questo modo metterebbe sempre questi segnalini rossi nello stesso modo, come giustamente vedi il cielo lo vedi dalla posizione in cui sei. E queste carte, o tessere, le rimettiamo nella scatola che non serviranno più. Dopodiché prendiamo i segnalini che hanno, per essere un pochino più grandi e che hanno lo stesso disegnino che c'è qua in basso delle planche e le mettiamo qua vicino all'uno prendiamo un numero di pianeti in base al numero di giocatori mescolati e razzolati, dicono i due giocatori saranno otto pianeti 10 in 3 e 12 in 4 giocatori li razzoliamo per benino e li mettiamo a caso partendo dal centro in questo caso due giocatori facciamo così basta e qui abbiamo i nostri otto pianeti quelli che rimangono li teniamo da parte potrebbero rientrare ci teniamo a portare di mano queste stelline che sono altri punti vittoria maggiori oltre i 20 punti per poter poi iniziare andiamo a mettere all'interno dei sacchetti a masso stellare tutti quanti i segnalini questi qua che hanno le stelline sopra che ci sono da 1, 2 da 2, 4 vuote piene come si vede li mettiamo tutta dentro che è una bella razzolata nell'altro sacchetto invece andiamo a mettere le diramazioni luminose che sono queste qua chiare con questi simboli con queste righettine rosse che collegano ne mettiamo dentro una bella razzolata e poi ne andiamo a mettere qua sopra in base al numero di giocatori questo qui all'inizio del turno che poi iniziare dopo aver fatto il setup prima di iniziare a giocare abbiamo una breve delucidazione sulla plancia di ciascun giocatore la plancia è divisa in aree abbiamo il cielo del nord che sono queste due linee come indicato qua nord, sud, ovest, est come incantavamo alcuno quindi nord saranno questi due est saranno queste sud saranno queste e ovest di là poi abbiamo la centrale che sono queste nove tondelle qua dietro che poi sono otto e poi ci sono quelle esterne che sono queste due due, 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 due che sono sempre otto ci sono adiacenze date dalle diramazioni che sono queste centrali e dalle figure che sono questi tondelli quindi questa qui sarà adiacente a queste tre e questa questa qui sarà adiacente a queste, eccetera, eccetera inoltre come figure avremo gli ammassi stellari che vi ho fatto vedere prima queste che sono le figure astrali e poi dopo i pianeti queste sono le tre tipologie da qui poi andiamo a giocare all'inizio del turno andremo a fare la fase di preparazione dove pescheremo una serie di ammassi e una serie di diramazioni in base al numero di giocatori per due giocatori ne pescheremo tre tre giocatori quattro e quattro giocatori tutte quattro quindi le andremo a pescare e le mettiamo qua sopra le tessere di diramazioni vanno da uno a quattro quindi in questo caso ne mettiamo solo tre e poi prendiamo queste stellozze che come vedete corrono da tutte le parti e le mettiamo qua sopra come si vede da qua gli ammassi stellari possono essere luminosi o non luminosi i luminosi sono quelli che sono vuoti all'interno di chiaro che se vi è un po' se vi mettesse a zoom un comodo comunque sia questi qua è esatto il luminoso è quello a sinistra e quello a destra è quello non luminoso e la mettiamo qua sopra una volta che viene fatto il setup partendo dal primo giocatore andranno a scegliere di prendere o una diramazione o un ammasso stellare quindi prenderà un giocatore e se lo metterà qua l'altro giocatore se lo metterà qua e poi in ordine inverso si va a prendere le stellozze e si mettono qua quelle che rimangono vengono scartate invece della massa stellare si può prendere un pianeta in base al valore della massa stellare si prende il pianeta più vicino come indicato qua due quattro tre e io invece di prendere questo da tre potevo rinunciare e prendere il primo pianeta celeste da mettere qua una volta che un giocatore che i giocatori hanno collezionato i propri pezzi andranno a posizionarli ovviamente nel tondo ci va il tondo nello spazio centrale ci va il spazio centrale i collegamenti non limitano il piazzamento delle tessere vuol dire che se io metto questa qui per esempio posso mettere anche questo qua anche se non è collegato il collegare i pianeti deve essere fatto e anche le diramazioni deve essere collegato a qualcosa di presente che sia prestampato o presente già sulla nostra plagia quindi vuol dire che questo ammasso stellare lo posso piazzare qua ma non lo posso piazzare qua stessa cosa questo lo posso mettere qua perché c'è il prestampato ma non lo posso mettere qua perché non c'è nulla il criterio con cui andranno messi questi è dato da punti che andremo a fare e vi spiegherò quindi quando si vanno a piazzare gli ammassi stellali che hanno una stella luminosa si va a fare subito i punti una volta piazzata si sceglie l'hemisfero quindi dove è stata piazzata quindi in questo caso posso scegliere il sud o l'est e per ogni stella luminosa andrò a fare due punti quindi ce ne fossero state altre un po' se ne trovo una così alla volée in caso avessi piazzato in precedenza questa qua in questo caso scegliendo vado a fare due o quattro punti mi prendo il mio cippettino e mi segna il punteggio nel caso in cui io vado a piazzare questi ammassi stellari e un diramazione scura viene completamente circondata verrà girata e permetterà a quel giocatore di andare a piazzare una delle proprie figure astrali questa cosa deve essere obbligatoria anche se piazzando la figura astrale non ci dà punti perché come vediamo nella carta vediamo un po' se si vede bene come vediamo nella carta piazzare questa figura astrale nella parte centrale che è un po' di mannaggia la sfocatura passare nella parte centrale ci farà guadagnare punti se se condivide il il cielo con una stella luminosa tipo io lo metto qua è nel centrale condivide il cielo con una stella luminosa mi darà punti aggiuntivi e questo è uno dei criteri con cui andremo a piazzare se in qualsiasi momento ci dovessimo trovare una volta che abbiamo piazzato a non avere più pianeti qua perché sono stati presi mettendoci gli ammassi stellari andremo a riempire di nuovo la mappa solamente con quattro pianeti questa cosa può essere fatta solo una volta per partita quindi non è che tutte le volte che si svuota una volta piazzati i nostri pianetini si va a rimuovere quelli che sono avanzati gli ammassi stellari e le diramazioni se ne ritirano fuori altri altrettanti per il round successivo e così si continua ma andando avanti veloce il gioco finisce quando verranno piazzati tutti e quanti 12 pezzi e andremo a segnare i punti andremo a fare tanti punti quante ammassi stellari sono connessi dalle diramazioni con lo stesso numero ad esempio qua sono tre abbiamo una, due e tre questo ci darà i punti questo di quattro c'è solamente un collegamento nulla quattro due collegamenti niente questo qua ne ha quattro sono quattro punti e così via dopo che vengono fatte questo conteggio di punti si fa vedere i pianeti per ogni parte di cielo contando interno e esterno nord, sud, ovest, est due punti per ogni pianeta diverso in ogni cielo ma se un pianeta ha un collegamento quel pianeta viene rimosso come in questo caso questi due pianeti verranno rimossi e si conteggeranno solo quelli che non hanno un collegamento a sé quindi questo qua sarà l'unico e verrà fatto due punti per questo e due punti per il centrale chi avrà più punti sarà dichiarato il vincitore in caso di pareggio il giocatore che ha fatto più punti dalle masse stellare vince e se c'è un altro pareggio verrà condivisa la vittoria il gioco che fa parte dei pilastri della creazione insieme a un altro gioco dove da 1 a 4 giocatori andremo come avete visto a piazzare queste tessere che sono altopianeti ammassi stellari e collegamenti per poter creare il firmamento il gioco è un astratto di base come avete visto come ti dice le regole sono semplici da vedere poi il piazzamento come viene fatto per quello che esce fuori per i criteri di punteggio delle 4 carte che ci vengono date all'inizio se volendo più avanti dopo la prima partita potete inserirle anche subito delle tessere e delle carte che vi daranno altri punti vittoria in base a quello che andate a fare e poi c'è anche una volontà solitaria con il coyoto che si fa vivo quindi il gioco è un gioco rilassante prendi la testa te la piazzi te la studi per bene in base a come la metti fai 12 mosse semplici e pure e quando andare a prendere il pianeta invece di appiazzare l'ammasso stellare sta lì nella parte della strategia del gioco perché magari il pianeta mi darà quei punti però con l'ammasso stellare posso andare a fare punti perché ne ho già messi altri o un criterio di punteggio dato dalle carte che produce i pianeti invece degli ammassi stellari è tutto da valutare e poi anche in base a quello che esce fuori durante la pesca di roba ce n'è un pacchettone bello pieno a voi a te la strategia e a giocarsela com'è poi materiali che sono veramente buoni sia di legno che di tappetini neoprene per ogni singolo giocatore l'unica appunto è che i segnapunti li avrei fatti proprio un pelino un pelino di grossi perché sono proprio piccoli 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 carini ma piccoli e stellette ninja verdi sono fantastiche perché sono verdi e sono semplicemente 20 quando arrivo a 20 punti utilizzabili detto questo vi rimando al prossimo Out of the Box a tutto quello che concerne la Tana e che offre nell'internet e ovviamente per chi ci sarà a Essen ci si vede a Essen per chi non ci sarà ci si vedrà per le dirette che verranno fatte durante il post fiera come sempre se siete in dubbio sapete come giocare